Turo Peretor provenienti da tutto il mondo alla scoperta dei patrimoni italiani dell'UNESCO tra i quali le Cinque Terre, Porto Venere, Isola Palmaria, Tino e Tinetto. L'incontro tra domande e offerta si è svolto di recente a Matera in occasione della settima borsa del turismo culturale evento annuale di Mirabilia, progetto che coinvolge 16 camere di commercio. Spezia è stata la seconda camera che ha diritto, oggi abbiamo 16 camere e 55 siti UNESCO di un progetto che riguarda i cosiddetti siti minori dell'UNESCO o se preferiti quelli che non sono Roma, Venezia, Firenze davvero un successo significativo sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista culturale. La Camera di Commercio Riviere di Liguria è stata tra i soci fondatori della rete Mirabilia progetto che partito nel 2012 proprio dalla Spezia mette in rete itinerari accomunati da un sito UNESCO. Il progetto sta assumendo adesso dimensione europea. Mirabilia è stato considerato dall'Unione Europea il miglior progetto del 2016 a testimonianza del fatto che è diventato un qualcosa di molto rilevante. Stiamo operando alcune iniziative sul terreno della digitalizzazione del progetto nel senso che ci saranno applicazioni dedicate a Mirabilia che consentiranno al turista o all'uomo di cultura di poter capire nell'immediato come muoversi, che cosa andare a vedere di tutti questi siti UNESCO. Prossimo appuntamento Expo 2020 a Dubai. Saremo presenti come Mirabilia all'Expo di Dubai portando appunto questa cultura italiana noi la chiamiamo del territorio e che sta davvero divenendo significativa anche per credo per l'intero paese proprio perché dimostra come l'Italia sia un paese da conoscere nei suoi dettagli. Grazie a tutti.